Eeeh, ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari nel canale, torniamo su The Marvel Snap, perché oggi ragazzi miei è stata formata ed è stata decisa, dici tu ma chi l'ha deciso? Non lo so, però sai quando le cose sul web succedono e dici qualcuno l'ha deciso, ma chi? Tutti, tutti e nessuno, comunque si è deciso oggi la versione più forte tra tutte di Arishem, e ovviamente ragazzi miei io sono qui come vassallo per poterla ovviamente condividere con tutti voi, ovviamente non prima però di avervi spennato un piccolo like al video, e dai, dai gratuito molto bene, ovviamente di avervi ricordato di iscrivervi al canale, come sempre ragazzi miei la sezione commenti aperta, eventualmente a critiche e a quant'altro, e ovviamente a spunti di discussione circa ovviamente il contenuto del video, in questo caso Marvel Snap, quindi fatemi sapere cosa ne pensate del gioco e del mazzo in particolare, e cerchiamo di capire adesso con tanta calma e tanta voglia per quale motivo hanno deciso di chiamare questo mazzo il miglior Arishem del meta, ovviamente, il me di sempre, il milonarishem comunque no, la versione migliore che puoi avere utilizzando la carta Arishem, 7 mana per 7, te dà il mana in più e te mette 12 carte randomiche, ma penso che voi la conosciate perfettamente. Allora signori, prima però di iniziare questo video vi lascio questa cosa che registro in post, vi ricordo un paio di cose, da prima che oggi c'è il dinner di Deadpool, un evento che inizierà alle ore 21, oltre a questo c'è la nuova carta Copycat e oltre a questo c'è anche un annuncio pazzesco che vi farò, quindi mi raccomando, oggi siamo e ci iniziamo la stream alle 16. Dopodiché, se volete pure supportare tutto questo mio lavoro ragazzi miei, questo mio attaccamento ai contenuti, a fare le cose fatte bene, io ragazzi miei vi prego, cortesemente, di perdere un secondo, anche se ho messo due, ma anche se fosse due secondi va bene lo stesso della vostra vita, per scaricare e solo scaricare un gioco gratuitamente. Mi hanno attivato un secondo download, oltre che a Dice Dreams anche a Domino Dreams, ci mettete regà un secondo a download, io vi metto i link in chat di Domino Dreams e di Dice Dreams, se Dice Dreams il download l'hai già fatto ti ringrazio, per tutti gli altri regà che il download non hanno fatto, veramente a tempo perso, anche mentre vi guardate questo video col cellulare, cliccate nel link, verrete redirettati direttamente dal download, cliccate download e chiudete, perché ci mette un secondo, sono pochi mega. Regà, gratuitamente mi supportate in maniera infinita, è l'unica cosa che vi chiedo, anche perché poi non so se effettivamente avrò altre occasioni per guadagnare in maniera così semplice. Va bene? Non ci dovete manco giocare. Grazie mille e buona visione, grazie. Io mi sto prendendo il raffreddore e la febbre, probabilmente per via di questi sbalzi termici micidiali, amore mio, Aresham Loki. Tech Card, Toxic Play, Play Forti Standalone, amore abbiamo tutto, Value Play, Nick Fury, Agente Golson Loki, pacchetto Loki, Lich, Doc Ock, per poter andare a portare e condividere metastasi direttamente all'avversario, Blob, Mockingboard, Tempo Play, ovviamente Alliot, Rogue, Shang, Tech Card. Abbiamo tutto, amore, abbiamo tutto. L'unica cosa che nerfa questo mazzo ovviamente è non pescare queste carte, ma pescare cose randomiche di Aresham, ma è anche vero, come ben sapete, che se Aresham vi dà cose buone, diventa addirittura questa una forza per Aresham. Io ragazzi credo veramente che questo sia il miglior mazzo che si possa giocare in questo momento nel videogioco e vi esorto, cosa che ho sempre fatto, a comprarvi 6.000 token di Aresham perché non sembrano esserci nerf ovviamente in vista perché tendenzialmente è il mazzo più forte del momento e quindi tocca che tu 6.000 token li spendi. Ok? Molto bene, amore mio, continua il tryhard, 19 rank all'alba. Ah, mamma mia, che raffreddore. Bu, ai, che siete? Allora, hai tra boba? Buona, dococca a sinistra ragazzi, è tanta roba, passerei, non voglio giocare tra boba a caso. Giochiamo contro Yoda, rank 79. Siamo pronti ovviamente per neutralizzarlo, capo, neutralizzarlo. Ok, giochiamo due carte, in realtà potremmo anche giocarle in mezzo, nel chilling, oppure, sì, no, le giocherei in mezzo, però non c'è motivo di preoccupazione. Faremo Nifuri a destra, lui gioca a Fastos, lui è anche un mazzo, Arish, vabbè. Scusatemi per l'erultamento. Nifuri, ovviamente a destra, non sembra male la mano. Lui fa Loki. E prende quattro carte. Quattro carte non sono poche, non sono manco troppe. Vediamo. Anche perché adesso capiremo subito che carte le abbiamo dato, grazie a dococca a sinistra. Lui fa Leech. A noi sta bene? Dipende dai punti di vista, bro. Qui lui rimane al Tobbeck, rimane. Non va bene. Non va bene. Ok. Ok. Probabilmente, ragazzi miei, ne ho fatti tanti di Doc Ock. Ne ho fatti veramente tanti nella vita di Doc Ock. Questo probabilmente è il picciurdo Doc Ock fatto mai nella mia vita. Perché anche nel caso in cui avessi avuto Shang, bro, sti quattordici punti incounterabile tra Loki e Mordi e Lyot, mi avrebbero fatto male, raga. E qui vi voglio dire una cosa, raga. Cioè, non snappate sempre prima di giocare a Doc Ock. Soprattutto dopo che Loppo ha fatto a Lyot. Perché rischiate che gli lasciate un cubo. Cioè, voi, in questi casi, fate ovviamente... Fate ovviamente Doc Ock, perché lo fate. È troppo forte a sinistra. Perché gioca già per più 12 di punti dati dal campo. Però non snappate perché rimane inculato. Poi, vabbè. In finauta dato da Arisham, Tobbeckado, quello è un po' Marvel Snap e non c'è niente che noi possiamo farci, bro. Cioè, quelle sfiga e basta. Ci sta. Mockingboard, Hitmonkey. Shang è sempre bello da vedere. Ok, a parte questo, ovunque, niente di che. Cioè, questa è buona, capo. Anche Logie è buona, porca troia. Lui che cazzo è Arisham? Minescape non è buona. Un'altalina di emozione qui. Tra cose buone e cose che fan cagare. Ma è impossibile. Titania. Non so a sto punto se fa Logie. Credo di sì. Credo di sì, ma non posso snappare, man. Perché c'è il cazzo di Minescape. Quindi io rischio di dargli cose buone. Lui fa ni fiori. Allora, noi facciamo Logie. Abbiamo due turni per giocare... Eh, regiocare. Abbiamo due turni per giocare tutto quello che ci dà Logie nel caso in cui sia possibile. Però non mi sembra una cosa possibile. Vai, regà. Sto facendo Logie a sinistra, Mines. Non so che dirti. Boh. Non lo so. Non so che dirti. Volendo Ajax lo possiamo fare pure noi, eh. Dipende a sinistra che esce. Speriamo che Dovok non mi trolli un altro game, capo. Questa va bene. Questa pure. Ah, sicuramente snappo. Ora, probabilmente... Ok. Perché probabilmente noi andavamo a... A giocarcela nella location centrale, no? In cui avremmo fatto... Ajax Absorbiment, immagino. Era l'unica cosa che mi permetteva di vincere pure in mezzo. Tanto noi comunque Shang non gliel'avremmo dato. E stavamo nel chill. L'ha affoldato, ci stanno. Non aim! 2058, man. Nifuri into Loghi. Siamo contenti di vivere così, eh. Molto contenti. Passo. Lui che mazzo è? Ma lui è Thanos? Ok, vabbè. Loghi, ragazzi, perché è incredibile? Loghi è incredibile perché è forte in Egalmodo e contro Thanos e contro Arish. C'è, ma... C'ha senso sta roba. Direi Ego in mezzo, o Kai e Destram. Into... Nifuri, into Loghi, una roba del genere. Carina... Era carina anche una mora, regà. Però... Loghi è 10x, capiamo? Ma che a destra la location non mi dice che sia un fio di troia. Eh, non mi sembra proprio, capo, che me lo dica. Snap. Snap perché abbiamo già messo una carta. Vedi, questa è stata tutte le volte in cui giocare in blind. È forte, no? Se mi usciva Trono Spaziale era forte manco per il cazzo. Tra le altre cose, lui, avendo già giocato due gemme, riesce comunque il filo di troia. A giocare due carte. Micia, se è partito Bebro. Meglio per noi, capo. Meglio per noi, se prende anche la roccia. Molto bene. Ok, regà, sta partita penso che sia vinta adesso. E ho trovato anche qui Inget, capo, come i veri eroi. Ecco la cosa. E sta roba, ragazzi, dovrebbe essere illegale. Non lo so, bro. Dovrebbe essere illegale. Qui Inget, l'occhi. Troppo forte, regà, risce. Veramente troppo forte, non so. Non voglio urlare al nerfo, per carità di Dio. Ma come vi avevo detto già nell'intro. Vi ho preparato un mazzo pazzesco, capo. Pazzesco. Ed è pazzesco. È pazzesco. Vediamo un attimino lui che si inventa. A meno che l'odio non mi dia tipo Psylocke, Lockjaw e... Micca, bro, veramente, eh. Una roba terribile questa è stata. E... Boia, terribile sta merda. Lockjaw, Psylocke... No. Allora, Mockingbird è sicura e fortissima. E... Poi, Bo. Alliot? Ci ho prio? Vediamo? Ok, all'Ioth l'abbiamo trappato. Vediamo che abbiamo trappato. Visione, top. Fortissimo. Ok. Ok, questa è una merda, regà. Io devo coverarmi eventualmente per lo spostamento di Blue Marvel in mezzo, no? E... Lo spostamento di Blue Marvel in mezzo gli fa fare 15 punti in mezzo. Quindi, in realtà, noi così stiamo safe. Ok. Poi facciamo... Boh, Lockjaw, Shang. Ragazzi, non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Oppure facciamo Lockjaw, Psylocke, Spider-Ham, Shang. Questa pure non è male come play, però andiamo a caso sul lock. Dai, mi gusta. Ok. Perché alla fine, se ci pensate, un sacco di carte buone mi sono rimaste del mazzo, no? Vedete il tracker? Arisham comunque è buona. Mockingboard, Alliot, Blob, Doc Ock. Sono carte comunque buone anche su zona negativa. In mezzo ci preserviamo dei 15 punti giocando 3 punti di Shang che non fa niente, ma mette 3 punti. e di base, ragazzi miei, il trap di Alliot ci ha fatto vincerci i due cubi. Go next. Nonostante Loki qua mi abbia dato veramente della merda, eh? Cioè, se vede contro Thanos vedo roba molto più forte. Ok. Ok, ok. Stamano è una merda, vedi, per esempio. C'è una vita di rega probabilmente troppo bene. Patriot a sinistra lo possiamo fare, tanto prende più uno tutti i turni. Lui fa dotto strange. Ok. La cosa è negativa, ragazzi, ma è hot location. Non lo fa mai capire. Facciamo Patriota, capo. Che ti devo dire? Ok. Attenzione perché Sage così prende un valore bestiale. Sage OP a sinistra, regà. Facciamo Kitty Pride Sage e è gigante. Ok, facciamo Kitty Pride Sage. La nostra mano continua comunque a far cagare. 10 punti, 11 punti di Sage. Accolateli ben bene, eh. Vai, Loki. Ha senso, Loki? Sì, è Arisham. Non giochiamo Kitty Pride, bro. Andiamo di Loki. Lui fa Deathlock. Quante carte mano c'ha, bro? Ma quanto sta giocando un Curve a sto tipo? Buona Mockingboard. Amo Blob. Korg. Ha snappato lui. Forse a Shang, man. Altrimenti lo snap non me lo spiego. Ok. Sposta nocturne, sette punti le nocturne. Io foldo. Io foldo. Allora, raga, aspettate che mi sto facendo i cazzi miei. Cosa che, eh... Arrivo. Allora, che voglio? Gus, quanto sei di rank? Mamma mia, bro. Ti snap, man. Ha rank 5.000. Snap, snap. In questo gioco, ovviamente, se hai un rank alto, non sai giocare, capito? Gioco in cui viene premiata la skill. Non posso perdere il Contro Gasser rank 4.500. Lui, ovviamente, colla. Non è manco Arishem, lui, capito? Pretende di... Ci sta. Potrei pure passare a peffar loghi. Però, raga, dai. Green Goblin non pare brutta, su. Ma lui, proprio... Lui colla lo snap e poi rimane silente. Ha senso, bravo. Ci sta. Squirrel va bene. Abbiamo l'itch. Allora, raga, farei comunque loghi. Loghi sinistra, così non andiamo sotto Shang in mezzo, no? Alla fine, sì, perdiamo l'itch, sti cazzi, man. Doc Ock sarebbe stato molto, molto più problematico da perde. Blue Cage, Wong, Mystique, Ironheart. Boia. Preparatevi a quello che vedrete, raga. Settiamo doppia carta. Non so se era giusto staccare entrambe, eh. Secondo me no. Secondo me no. Così da una parte possiamo fare un'altra, stata un'altra seggio. Siamo un pochino più aperti. Invece... Ok, questa va bene. Invece se le avessi staccate probabilmente sarebbe stato un casino. Ma lui cos'è? Un clug? Non capisco, bro. Sul serio? Non lo sto capendo. Vuoi fare solamente Ironheart? Ok. Ok. Non mi chiedete, ragazzi, per quale motivo sto vedendo questo? Non lo so. Guarda. La merda comunque di carte trovate, eh. Fortuna che lui non ha trovato Wong, bro. Altrimenti sto game... Vado il fatto che non so se lo vinciamo. Lui è sicuramente in Silver Surfer, eh. Credo. Ma in Silver Surfer di quelli strani con i controcoglioni. Noi che cazzo facciamo ultimo turno, capo? Oh. Io non è che forse Arishemba fatto sinistra per giocarcela su Metropoli. Non dovrebbe avere cose più grosse di sette in teoria. Gioco doppia carta sinistra. Brood. Gioco subito Silver Surfer. No, no, eh. Forse perché fa Absorbiment, immagino. Quante carte c'ha in mano? Una quattro. Allora, come vi dicevo, non può comunque superare i sette punti di Arishem. Perché Logia... Ah, Logia a sette, ok. Non lo so, bro. Ma giocherei... Oh. Non posso far cazzo. Boh, cercherei comunque di contestare a tre location, io. Non dovrebbe avere Shanglu, in teoria? Ne vogliamo contestare a due? No, 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 no Vediamo Absorbiment L'avevamo capito Adesso abbiamo vinto Mi sento molto tranquillo Bro Io non posso negarti Che un attimino Un brivido dentro di me L'ho sentito Non te lo posso negar bro Mentirei Alla fine è andata bene Luke Cage Sage In mezzo Credo che comunque avrebbero vinto Perché Azmant sarebbe stato in influente Avrei fatto 20 punti in mezzo Più Sage 8 28 Sì no avrei vinto anche con Luke Cage Sage in mezzo Però un attimino Ho stretto il culo contro Il mio fratello Gas Io santo Signori L'ipotesi che abbiamo fatto A inizio del video Trovano conferma In quello che abbiamo visto Sto mazzo è rotto bro Poi Lasciate sta che oggi Ho trovato particolarmente Tante volte Loki Perché ho trovato veramente Tante volte Loki Però indipendentemente Da tutto Regà Sto mazzo ha tutto Diciamo che L'unico nerf Che poi è il nerf alla carta È che non sempre trovate tutto Però ragazzi Come ormai avrete capito Molte volte Trovare carte randomiche È una giocata che è forte Tanto quanto Trovare le carte del mazzo Perché l'avversario Per l'appunto Non ci gioco attorno Basta ricordare L'aero che abbiamo preso ieri Nel video No vi ricordate Quando ho fatto Darkochi in mezzo Che mi ha spostato Loggio E mi ha fatto perdere Non puoi giocare Intorno a aero Però in realtà Succede molte volte Che Arisham Dalla carta giusta Al momento giusto O semplicemente Una carta molto forte Che l'avversario Ovviamente non può Playerondare Perché Non è una carta che si gioca Amori Spero che anche questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo ovviamente Oggi stream alle 4 Come Come sempre Nel mentre Un buon proseguo di giornata Un grosso abbraccio E bella